Non si tratta di una delle solite ricette di cucina o di un blog divertente. Questa volta, Benedetta Rossi ha annunciato qualcosa di straziante ai suoi numerosi fan sui social. Un post commovente, che ha fatto versare fiumi di lacrime e scatenato una valanga di messaggi di solidarietà e cordoglio. La carismatica Benedetta, nota protagonista del mondo televisivo, ha voluto condividere la terribile notizia con i suoi seguaci, e ha fatto sprofondare tutti nel dolore. In una foto postata sui suoi profili social, la cuoca ha mostrato il volto di una persona cara e ha accompagnato l'immagine con un messaggio struggente. Ieri sera ci ha lasciato, ha scritto Benedetta con voce tremante. Stavo tornando da Milano e non ho fatto in tempo a darle l'ultimo saluto. Mi sento terribilmente in colpa per questo. La sua anima è segnata dal rimorso per non essere stata presente nell'ultimo istante della vita della persona amata. E chi è questa persona speciale scomparsa? La zia di Benedetta Rossi, una figura importante e affettuosa che, senza dubbio, ha lasciato un vuoto immenso nel cuore della famosa cuoca. E in una delle fasi più difficili della sua vita, Benedetta ha voluto esprimere il suo dolore, facendoci partecipi del legame unico che la legava alla cara zia. La tristezza di Benedetta è palpabile, e le sue parole commuovono anche il cuore più duro. Dopo nonna, se ne è andato un altro pilastro della mia vita, ha scritto con il cuore spezzato. La perdita della zia si aggiunge al dolore per la mancanza di sua nonna, un'altra figura fondamentale che ha lasciato un vuoto incolmabile nella vita della cuoca. Ma nonostante il dolore, Benedetta trova una piccola consolazione. La speranza che adesso la zia e la nonna si siano riunite nell'aldilà, pronte a farsi compagnia come facevano in vita. Un pensiero dolce e struggente, che ci fa capire quanto sia forte il legame familiare che lega Benedetta a coloro che ha perso. In questi momenti di dolore e lutto, il supporto dei fan è prezioso. I commenti di solidarietà e vicinanza hanno inondato i post di Benedetta, dimostrando quanto sia amata e stimata da tutti coloro che la seguono con affetto. Il mondo virtuale si unisce in un abbraccio collettivo per confortare la nostra Benedetta. Cara Benedetta, la tua forza e il tuo coraggio sono un esempio per tutti noi, che tu possa trovare la serenità nel ricordo dei momenti speciali trascorsi con la zia e la nonna. Le tue emozioni ci toccano profondamente e ci uniamo a te nel tuo dolore. Con il cuore affranto, ti mandiamo tutto il nostro affetto e il nostro sostegno in questo momento difficile.